È ufficiale, nuovo evento Apple il 7 settembre 2022 alle 10 Pacific Time, quindi da noi dovrebbe essere intorno alle 19. Io sono sempre più sommersa dal lavoro, infatti non mi mostro, ma con questo bellissimo sfondo volevo semplicemente mostrarvi che ho fatto le unghie. Sono bellissime, le ho fatte tipo color panna, un po' forse anche rosatino, ma mi piacciono proprio tanto tanto tanto. E niente, quindi questa è la novità della giornata, poi stasera andiamo a cena fuori, io e Franci, quindi non vedo l'ora. Se mi ricordo porto anche la videocamera e vi mostro un po' di piattini, se non me lo ricordo abbiate pazienza. E poi, niente, i prossimi giorni mi farò anche un attimo vedere perché vi voglio parlare di che cosa arriverà sul canale a settembre. Intanto, un piccolo spoiler, non sul canale ma sull'evento Apple, sembra che questo logo nasconda, cioè l'invito nasconda il fatto che i nuovi iPhone avranno la fotografia astronomica, non so se si chiami così, spero di sì. In effetti ricorda molto una galassia, un universo, insomma quello che è. E niente, quindi questo è un piccolo spoiler sull'evento, mi piace sempre andare a vedere che cosa, secondo i vari esperti, può nascondere l'invito di un evento. Ma tanto lo scopriremo prestissimo perché, per fortuna, il 7 settembre non è lontanissimo. Grazie. 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 pochissimi giorni e buon inizio di settembre perché poi il prossimo video sarà già a settembre quindi vi saluto vi ringrazio per aver visto questo video anche se non sarà stato un vlog molto interessante ma non vi preoccupate perché poi inizieranno quelli veramente interessanti quindi ci vediamo venerdì con un nuovo video oppure su instagram domani mi sembra che pubblico qualcosa grazie per aver visto questo video ciao grazie